Personale della Polizia Stradale di Vibo Valenze e militari dell'aliquot carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Vibo Valenze hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo adottato in via di urgenza dall'ufficio diretto dal procuratore Mario Spagnolo della Galleria Fremisi San Rocco, sita sul tratto autostradale Salernoneggio Calabria e direzione sud, nonché del tratto autostradale in prossimità della stessa galleria fino al suo imbocco. luoghi in cui si sono verificati diversi incidenti. Nel tratto stradale incriminato hanno trovato la morte il 23 novembre 2015 Domenico Napoli, 19enne di Melicucco e il 1 marzo 2016 Marzio Canerossi, Giuseppe Speranza, Fortunato Calderazzo e Francesco Carrozza, tutti tra i 22 e i 24 anni e tutti di gioia tauro. L'adozione del provvedimento si è resa necessaria in ordine alla pericolosità del tratto autostradale per gravi difetti strutturali. L'attività d'indagine della Procura della Repubblica di Vibo Valenze prosegue al fine di operare la precisa ricostruzione della dinamica dei sinistri ed individuarne le responsabilità. Da Vibo Valenze per la CNews 24. Grazie. Grazie.